Buonasera e bentornati a Iulo, l'arte per l'arte. Questa sera parleremo in particolare di Notre-Dame de Paris, questa enorme cattedrale, questa bellissima cattedrale, che purtroppo nel 2019 fu vittima di un terribile incendio. Eravamo tutti davanti al televisore e tutti speravamo che da un momento all'altro cessasse. Per fortuna, anche se con enormi danni, con l'intervento dei Vigili del Fuoco, che è sempre proverbiale, non sempre riconosciuto per quello che è il loro lavoro così fervente, così sentito, così profondamente vissuto, ha permesso di fermare questo incendio, salvare una buona parte della struttura di questa bellissima cattedrale, che pare possa tornare, bella come prima, a riaffacciarsi sulla Senna a partire dal 2024. e 24, speriamo. Ecco, Notre-Dame de Paris si fa risalire al 1160, precisamente nel 1163, Papa Alessandro III posò la prima pietra. È una cattedrale che ha un'immagine assolutamente molto originale, con questa facciata a due torri campanarie incompiute, che l'hanno resa però originalissima. Noi sappiamo che il gotico è un'architettura particolarmente francese, e questa è la linea proprio del gotico francese. Ecco, se noi osserviamo questa facciata, notiamo più registri. Il primo presenta tre grandi portoni, tre portoni che sono ad arco a sesto acuto, strombati, vedete che si ripete più volte l'arco a sesto acuto andando in profondità, e quello che sta sulla sinistra ha anche la Gimberga. La Gimberga è una struttura, vedete, a cuspide, in particolare questo portale dedicato alla Vergine Maria. Al di sopra di questi tre enormi portoni vi è una parata di statue dei re di Giudea e di Israele. Se noi distaccassimo con l'immaginazione questo primo blocco dalla restante parte della cattedrale, vedremmo una struttura che ci ricorda un arco di trionfo romano, tre fornici e del resto entrando da questi portali per chi è della fede cristiana, è un modo di entrare in trionfo verso Cristo. Ecco, salendo ritroviamo due grandi finestre a sesto acuto, due bifore e quindi un grande loggiato con archetti verticali. Salendo ancora continuano queste torri campanarie, ritrovando altre bifore, questa volta molto estese in verticale. Insomma, è una facciata meravigliosa che ci invita ad entrare per trovare una grande cattedrale di cinque navate. Pensate che la navata centrale è alta 35 metri, ricordiamo quella bellissima cuspide, quella bellissima guglia che purtroppo andò distrutta, ma insomma ci auguriamo che ritorni più bella che mai. E approfitto, parlando di questa guglia, per dire che i pinnacoli e le guglie nell'arte gotica non sono solo un elemento ornamentale, come ci viene da pensare, di abbellimento, sono anche un elemento che permette di distribuire quelle forze che arrivando dalle volte a crociera delle navate vanno a piombo verso terra scaricandosi sui contraforti esterni, i quali reggono proprio le guglie e queste forze tendono poi a distribuirsi lungo tutto il contraforte e scaricare anche in parte verso l'alto il loro peso che potrebbe creare dei crolli se non venisse distribuito grazie a una struttura scheletrica del gotico che è la struttura portante. Ecco, Notre Dame è considerata anche il vascello della cristianità, infatti se noi la osserviamo dalla Senna notiamo che vi sono dei grandi archi rampanti che ricordano dei grandi remi e in effetti la figura che più viene accostata a questa grande e bella cattedrale è proprio la figura di una grande nave che porta così la parola della fede cristiana. Ecco, entrando in Notre Dame ritroviamo cinque navate, una navata molto grande, quattro altre navate di cui due per lato, sinistro e destro rispetto alla navata centrale, con piccole campate, dette campatelle e al di sopra di grandi arcate a sesto acuto ritroviamo un matroneo e quindi il claristorio. Vi ricordo che il claristorio è quella zona che nell'arte gotica, nell'architettura gotica, conserva le vetrate istoriate. Il fatto che esista in Notre Dame questo matroneo sotto il claristorio non permette che questa cattedrale sia molto luminosa, però è una cattedrale assolutamente delle più suggestive. Avanzando nelle navate ritroviamo un transetto quasi centrale, un piccolo transetto quasi centrale, un corto transetto, e lì si collocava, e poi speriamo, come dicevo prima, che ancora torni presente, quella bellissima guglia. Ecco, andando avanti ritroviamo l'estensione ancora della navata longitudinale, delle navate laterali, e quindi questa pianta finisce a semicerchio e dietro al presbiterio, tutto intorno al presbiterio, si distribuiscono due deambulatori, che sono due corridoi che percorrono a semicerchio questa parte che sta dietro al presbiterio, e sono di fatto i prolungamenti delle navate laterali, e permettono proprio di deambulare, non durante la funzione, ma per poter vivere anche quello che è il cuore della cattedrale, il luogo proprio dei presbiteri. Ecco, ancora cappelle radiali, vedete che se noi immaginiamo che questo semicerchio fatto da questi deambulatori abbia un diametro, questo diametro irradia dei raggi, e per ogni raggio vi è una cappella radiale. Ecco, Notre Dame è una cattedrale davvero unica al mondo, e ci permette di capire anche solo guardandola quello che è lo stile francese gotico. Molto diverso è invece lo stile italiano, noi la prossima volta nel terzo incontro dedicato all'arte gotica parleremo del gotico italiano e noteremo, vedremo, che vi è una commissione, una commissione tra quella che era stata l'architettura romanica, più sobria, meno meno verticale, con muri perimetrali portanti, e quello che sarà il gotico, il gotico che verrà portato grazie agli scritti e il lavoro meticoloso dei fratti cistercensi un po' in tutta Europa, quindi anche in Italia. Cominceremo con parlare di quella che è la cattedrale di Vercelli di Sant'Andrea, guardando la facciata che ha effettivamente due torri campanarie, anche se molto diverse da quelle di Notre Dame, laterali a quella che è la facciata a capanna, che mantiene le caratteristiche però del romanico, portali a tutto sesto, poi un grande rosone che fa parte invece dell'epoca gotica, e quindi un loggiato cieco sempre ad archi a tutto sesto. Ecco, ma osservando le cuspidi sui campanili ci accorgiamo che questa struttura è una struttura che è l'aliason fra quello che è un gotico e un romanico. Ecco, di ciò ne parleremo la prossima volta, io vi rimando al prossimo appuntamento di Iulo, ringraziandovi come sempre della vostra consueta e gentile attenzione, e per concludere il percorso dedicato all'arte gotica con il nostro terzo appuntamento. Grazie e arrivederci. Ciao.